Non una semplice mostra, ma un percorso immersivo che cala il visitatore nella drammatica realtà di un campo di concentramento. I fantasmi di Auschwitz, affinché la Shoah non diventi un mero rigo sui libri di storia, è l'esposizione e installazione realizzata da Fiorenzo Sernacchioli in collaborazione con Maurizio Della Nave, che l'amministrazione comunale propone come primo appuntamento del calendario della giornata della memoria. Un percorso sensoriale dove ci sono delle situazioni, degli strumenti e dei mezzi che gli stessi nazisti usarono, impiegarono per portare a compimento quella che fu la soluzione finale. La mostra è stata realizzata con il sostegno della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Quasi un modo per chi non è mai stato ad Auschwitz, insomma, di provare un po' le stesse emozioni che può provare l'acqua. Quindi ci è sembrata un'idea molto interessante che la fondazione ha deciso di sostenere con impegno. I fantasmi di Auschwitz è solo il primo di una serie di appuntamenti che l'amministrazione comunale propone per il 27 gennaio. È una mostra rivisitata con delle importantissime novità e l'amministrazione per la giornata, appunto il giorno della memoria, presenterà un calendario molto importante. La mostra, a ingresso gratuito, sarà allestita dal 18 gennaio all'8 febbraio a Villa Bottini.